Salve a tutti cari amici e amiche, benvenuti ai nuovi iscritti, stiamo per entrare in nuovi tempi, e chissà che cosa ci attende, perché tutto sta cambiando, forse con la politica di adesso, ecco, facciamo ripartire il conto alla rovescia di nuovo, così fa più effetto, chissà che cosa staranno preparando nel palazzo del potere, che rivoluzionerà l'epoca, neanche io ci credo, per quello lo dico male, ma veramente ho visto gente essere picchiata per le strade, e altro che conta la rovescia per tempi migliori, sono tempi che ci devono allarmare, e c'è poco da ridere, eh sì, veramente, comunque perdonatemi se non sono iscritto ai canali di tutti i miei iscritti, e che dovrebbero semplificare le cose in Sprecher, perché c'è la lista degli iscritti e la lista nel quale uno è iscritto, però uno come fa a sapere se la lista in cui uno ha tutti i canali che è iscritto sono anche dei propri iscritti, perché io vorrei soprattutto dare la precedenza nell'iscrizione mia ai miei iscritti, non di iscrivermi in altri canali che non sono iscritti ai miei, prima vorrei iscrivermi ai canali che si iscrivono al mio, comunque bando a questo e a altre ciance, e là devono essere le 23 e 27, qua sono le 19 e 27, adesso mi hanno chiamato dalla cucina perché la pappa è pronta. Io sto preparando un altro tutorial su gastronomia a Cassareccia, che è facendo merenda con un budino e del cioccolato dentro. Lo sto editando il video, forse fra una mezz'oretta sarà caricato in YouTube, nel mio canale San Ten Chan di YouTube. In bocca al lupo, grazie per seguirmi, forse più avanti, fra qualche ora editerò un altro programma radio, un spreaker, nel mio canale radio di San Ten Chan. Vi ringrazio a tutti e tutte per seguirmi, cercherò di non deludervi facendo cose interessanti. Addio. E grazie di tutti amici per seguirmi.